ebbene sì ebbene sì eh qualche qualche tempo fa la nostra Italia del Regni ci ha regalato un'emozione unica ma per sapere le sensazioni e tutto ciò che è successo a Cardiff abbiamo Niccolò Cannone ormai un amico di Firenze Viola Supersport lo spirito fiorentino che mette in campo giocatore della Benetton e della Nazionale ciao Niccolò ciao a tutti ciao Niccolò eh ormai le tue presenze nazionali cominciano a essere cominciano a essere tante e cominciano a essere importanti però guardandovi purtroppo ancora la televisione perché ancora c'era problemi un po' di pandemia e quant'altro beh lì a Cardiff è successo qualcosa di incredibile eh ti seguivo con lo sguardo praticamente hai abbracciato tutti ti mancava solo la mascotte che gira per il campo poi ha abbracciato tutti Niccolò sì eh ero ero troppo felice dopo dopo ormai qualche anno è stata la mia prima vittoria alla nazionale quindi ero troppo felice eh io quando sono sono così quindi ho cominciato a abbracciare chiunque mi capitasse davanti eh la felicità era tanta senti nel nel gruppo del dei giornalisti lì insieme alla fir e poi anche sui social io e altri come Cristian Marchetti è un amico abbiamo detto abbiamo abbiamo pianto è stata una felicità incredibile è stata liberatoria però adesso Niccolò questa è una cosa che è purtroppo il passato lo sport dice questo però vi dà una consapevolezza vi dà vi dà una spinta perché vincere in Galles non te la regalano mai eh no no esatto è stata stata una vittoria importante per noi per per il gruppo per tutti i serpici abbiamo fatto e una vittoria molto importante nella nella difficoltà è nel continuare con questa strada continuare a vincere e credo che queste tre partite che verranno noi le approcciamo per vincerle tutte preparandole al massimo non guardando chi ci abbiamo davanti anche se partiamo da ovviamente da favoriti ma le approccieremo come se fossero una qualsiasi partita quindi il massimo sia allenamento che partita con lo studio e il nostro obiettivo è giocare bene fare un bel gioco oltre alla vittoria eh sì eh sì perché di questo abbiamo bisogno le partite contro il Portogallo ritorniamo con la Romania e poi quella con la Giorgia che deve attestare come il movimento reggistico italiano sia superiore benché il movimento giorgiano abbia importanti giocatori e lo abbiamo visto anche nelle nelle finali eh sia di challenge ma anche delle dei vari campionati tanti giocatori giorgiani che giocano che giocano nelle maggiori nelle maggiori squadre soprattutto francesi e qualcuno anche in Inghilterra. Senti Niccolò eh te non sei vecchio sei giovanissimo però dietro di te c'è tanti ragazzi tanti ragazzi che stanno venendo che stanno venendo fuori la nostra under venti ci ha regalato delle soddisfazioni enorme si avverte che il movimento italiano Niccolò porta tanti tanti di di questi ragazzi a Gesi tanto per dire uno toscano per altro il nostro concittadino eh Lapo Frangini eh Pani eh dietro di te Niccolò spingono eh occhio certo no 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 ma è giusto che sia così è giusto sia così per perché più là che andremo più sarà difficile mantenere il posto comunque sia competitività è la roba è la la cosa essenziale in questo sport per migliorarti come giocatore quindi tutti tutti questi ragazzi più giovani di me è giusto che facciano facciano queste esperienze e che comincino fin da fin da giovani a mettersi in questo livello ecco credo che per la crescita dei ragazzi sia molto importante come lo è stata per me e quindi è soltanto una cosa positiva e tutti questi giovani ragazzi poi ce ne sono tanti toscani quindi è una cosa a motivo ancora più d'orgoglio per me quindi sono molto felice di questo sono tutti degli ottimi giocatori molti li conosco bene quindi è importante continuare a lavorare come devo continuare a lavorare io per migliorarsi giorno dopo giorno e tanti conoscono te c'è stato domenica il trofeo borelli al mario lodigiani e c'era tante squadre tanti ragazzini e il florenza dove tu hai cominciato ha vinto il trofeo borelli tu lo sai è la classifica delle varie under 15 quelli più piccolini e tanti ragazzi parlando e li parlavo di te Niccolò non è forte 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 e è una è una responsabilità lo so hai le spalle alle spalle grandi sei bello grosso prima avevi la responsabilità dell'orgoglio fiorentino e nazionale adesso sta diventando per questi ragazzi di Firenze il il campione che indossa una maglia prestigiosa come quella della Benetton Treviso e quella della nazionale sei un esempio per questi ragazzini che giravano il per il per il bolelli con la maglia che hai andossato anche te del florenza no è questa cosa mi rende veramente troppo felice io quando scendo a Firenze vado sempre al campo sto sempre con i ragazzini tutte le under ne conosco veramente tanti quindi mi piace troppo essere lì stare lì con loro perché mi medesimo le loro panni mi piacerebbe veramente tanto e un giocatore dove adesso gioco io fosse fosse il contrario mi piacerebbe veramente tanto quindi cerco di di stare con loro più possibile di rispondere alle domande che mi fanno poi sono molto attaccato a Firenze io soprattutto al mio club quindi per me questo è un motivo d'orgoglio e e ti dico che è un po' sento la pressione di rappresentare un po' questa città e il mio club non lo nego però è una roba bellissima è veramente una sensazione bella eh sì e e proprio una volta senza neanche senza neanche aver fissato ci siamo incontrati proprio al campo eh del Florentia è vero e conservo ancora la foto col presidente della federazione del comitato regionale eh Riccardo Buonaccorsi c'era Ferrara che è un allenatore del del Florentia ma anche lui ha giocato ai massimi ai massimi livelli eh senti Niccolò eh tornando al discorso eh della nazionale eh parlando tra voi la partita con il Galles in preparazione di questa eh di questa eh di questa eh spedizione estiva di questa tournée estiva vi ha dato nuova consapevolezza vi siete guardati negli occhi e avete detto sì noi siamo la nazionale italiana di debbi che ha vinto in Galles certo sicuramente eh ti dico noi ci abbiamo sempre creduto a parte la vittoria ma abbiamo abbiamo sempre creduto che noi in questo torneo ci dobbiamo stare e facciamolo con il Galles è stato il risultato di un lunghissimo lavoro ma possiamo stare possiamo fare le nostre partite e la nostra prestazione a questo livello questo l'abbiamo sempre pensato e col Galles è stato il coronamento di di tanto tanto sacrificio e alla fine abbiamo vinto la partita però come gruppo stiamo andando nella direzione giustissima e credo che ripeto questa partita del Galles ci ha fatto veramente tanto bene come gruppo e queste partite verranno ora saranno un'altra sfida per noi per continuare questa scia positiva la consapevolezza è nata dal dalla partita con l'Irlanda dove no c'è sempre stata perché comunque sia va nonostante il risultato va oltre va come ci alleniamo a cosa facciamo nel club è importantissimo a come approcciamo le partite al lavoro durante la settimana quindi queste cose che le viviamo le viviamo dentro le sappiamo noi ecco quindi c'è sempre stata questa consapevolezza al di là non è non è partita all'Irlanda da quando si è creato questo gruppo abbiamo questa consapevolezza senti a proposito di gruppo 24 per San Giovanni ci sarà la finale del calcio storico e tanti tanti reggbisti hanno hanno giocato e sia negli azzurri che ne vedi pensate che Sebastian Rodwell è stato uno dei migliori di parte verde e abbiamo visto giocare anche negli azzurri un ragazzo del del Firenze Rugby Samir che non ha non ha fisico ma è tanta gritta e tanto gruppo beh il nucleo dei rossi c'è tanti ragazzi che giocano nel Florenzia e il gruppo il gruppo ecco il calcio storico l'appartenenza a un quartiere a un colore tu che sei di Firenze e che naturalmente conosci tanti ragazzi che giocano al calcio storico è veramente il rugby fra le tante altre cose poi naturalmente ci sono ragazzi che fanno pugilato c'è chi fa lotta per tante cose però i rossi che stanno dominando da questa parte uno su tutti eh il Renzoni che è un ragazzo che non ha un fisico non è un fisico alla Niccolo Cannone ecco parliamoci però quando quando la fatica si comincia a sentire e si comincia a giocare palla in mano essere un regghebista aiuto aiuta certo certo allora ti dico io sono molto attaccato al mio colore sono molto appassionato da quando sono piccolo di calcio storico sono andato a vedere rossi verdi e conosco praticamente tu conosco buon rapporto con tutti i giocatori dei rossi conosco anche tanti giocatori alcuni giocatori degli azzurri Jobel eh Bo Bastiani Gigi comunque sia sono sono è una cosa una cosa bella una cosa spero continui fino all'infinito questa cosa del calcio storico e secondo me ora non tecnicamente ma come spirito una squadra di rugby una squadra di calcio storico approcciano la stessa maniera ognuno combatte per il proprio compagno quindi è una cosa ho portato i miei compagni di squadra della Benettona a vedere la partita rossi verdi mi sembrava una cosa bella far vedere una chicca abbiamo solo a Firenze quindi io sono molto 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 pazzo per il calcio storico comunque sia da tifoso perché non è non non posso non posso giocare quindi sono molto molto attaccato al mio colore eh sì eh sì davvero chi è attaccato alla tradizione del calcio storico per quello che rappresenta per quello che ha fatto tu non puoi giocare io ci sono stato venticinque anni senza mai giocare giustamente perché facevo il figurante perché insomma eh a tutto c'è a tutto c'è un limite Niccolò senti eh cosa dire innanzitutto ringrazio la federazione italiana rugby Antonio Pellegrino che ha mi ha concesso questo spazio per parlare con te che sei per noi una sorta di inviato speciale all'interno della nazionale perché eh naturalmente l'appartenenza cittadina il tifo eh per la squadra della nostra città e per le tradizioni quindi eh sei il nostro inviato quindi Niccolò ringrazio la federazione ringrazio eh te eh sempre per la tua grande disponibilità forza azzurri forza ragazzi e noi avremo modo di risentirci grazie grazie mille un abbraccione ciao Niccolò ciao ciao